Musica Ma andiamo a essere benvenuti in questo nuovo video di Rocket League Anzi è il primo video su Rocket League che faccio Perché ne ho già registrati qualcuno ma non li ho ancora caricati Perché sono due mesi che non faccio video E il motivo non è come Non mi ero dimenticato di avere un canale YouTube In pratica intanto tocco magico Perché si sono un po' il player No non è vero Sapete quanto sono bravo a FIFA L'avete visto Sapete quanto sono bravo a guidar su GTA Quindi cosa vi aspettate su questo Rocket League Dai avanti Seriamente Comunque è un giochino molto simpatico Comunque sto dicendo che non è che non ho caricato video perché non avevo voglia o tempo Anche se sono stato per lo più in vacanza non avendo internet Il tempo l'avrei anche potuto trovare Più che altro mi sono Oddio cosa ho appena fatto Perché ho fatto questo Comunque non l'ho più Non ho più fatto video perché mi ero dimenticato di avere un canale YouTube In pratica Sì Più che altro pensavo di avere qualche decina di video programmati Invece ne avevo due Eh sì Ho una grande memoria Lo ammetto Comunque questi video non sono in commentari live Perché è difficile giocare su Rocket League Davvero Non tanto per il giochi in sé Che è molto frenetico e veloce Ma se non sei nella giusta mentalità Se sei un po' stanco Manchi tutte le palle e fai cagare Davvero Quindi io questa partita l'ho già giocata La sto commentando in seguito Però non preoccupate perché non mi ricordo assolutamente come finita L'ho presa a caso tra quelle che ho salvato E non sono tutte Non le ho vinte tutte quelle che ho salvato Ma sono battite in cui ho giocato bene Perché quelle in cui gioco male Ovvero quando sono stanco Non me le carico Perché sono una persona che si è molto vanicosa Tira Me lo sarei meritato Questo gol Mi prendo È diventato un autoscontro Incredibile Qua ci segnano Qua ci segnano Qua ci segnano Lo salvo Dai che la salvo La salvo Peccato Spero ci ero andato vicino a salvarla Se non avesse fatto l'ultimo rimpallo L'avrei salvata Ce la siamo scambiata due volte Pallo interno È entrata Però ho fatto una buona azione Devo esserne felice Felice Siamo i secondi della squadra Vabbè Stiamo facendo abbastanza schifo Però in questa partita il tocco magico Va storto Purtroppo va storto Stenta la botta Ma non va Il tiro La alza Storta Serve a niente Comunque siamo a Uno Siamo sotto di un gol Al terzo minuto No al secondo minuto di gioco All'inizio del terzo minuto quasi Rimpallo Non è un rimpallo Sì Vai Dai Prendila Avanti Io credo in te So che ce la puoi fare Un tiro incredibile No la parata Questo poteva entrare O era palo o gol Questo Aia Questo è gol 2 a 0 A 2.49 minuti dalla fine Siamo a metà partita sotto di due gol Vedo Grigio a vincerla questa Non mi ricordo com'è finita Però mi sa male Peccato 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 Poteva essere una gran partita Non sto giocando male comunque Al via Dritto Incredibile Primo tocco Ma ce la rimandano viene Tenta l'approccio da sotto La palla Rimbalzo imprevedibile Riesce a mandarla indietro Con classe Tenta il contropiede Ma viene Viene preceduto Dall'avversario Allontana la palla Con un gesto atletico Invidiabile Ottima preparazione Giusta direzione del tiro Viene deviata Altrimenti Aveva buone possibilità di entrare Palla ancora attiva Palla ancora possibile No Si ritenta sulla fascia Ma Contropiede avversario Contropiede avversario Sì Prendiamo il turbo Questo è un altro gol No incredibile Grande uscita del portiere Neuer Neuer versione Macchina Io la mia macchina al cappello Perché sono ottico No Non manca E due minuti dalla fine Finita Incredibile Incredibile Sponda Tenta il tiro Ottima 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 Messa al centro Palla asibile Possiamo fare Incredibile Palla metto E' un gol 2 a 1 Per gli avversari Si tenta il recupero Impossibile Improbabile Con questo tocco Proprio all'incrocio Dei pali Incredibile gol 2 a 1 Per gli avversari E si arriva In la prima posizione Della nostra squadra Sto facendo tutto io Cazzo Ok Primo tocco Sì Primo tocco Ma comunque La palla sta nel mezzo Non si sbilancia troppo Ma è nella nostra metà campo Incredibile Sempre sulla fascia Le ali Dove sono le ali? Incredibile Azione E di gol Sotto la traversa Di prima Incredibile Gol in rovesciata Su assist dell'avversario Che sbaglia tantissimo E l'unico ad arrivarti Sono io Perché ovviamente L'altro Stava facendo una gita E c'è il pareggio In 30 secondi Abbiamo fatto due gol Incredibile Cos'è sto là? Cos'è successo? Comunque primo tocco Ma cos'è successo In questa partita? Ah Abbiamo mancato Arnipallo Non è che Tornano in vantaggio No Grande uscita Incrocio dei pali Peccato 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 Incredibile Tocco magico No Me l'ha tolta dalla porta Quell'imbecille Me l'ha tolta L'avete visto? Ha parato il mio tiro Ed era un mio compagno Questo Sì siamo andati a funghi Proprio È un campo da calcio Se piova i funghi Possono nascere anche qua Tocco Penoso Abbastanza penoso Mi hanno fatto col pene Sì Bella Oh bella Ed è gol È gol Come? Me l'ho toccato Infatti tiro in porta Come mi ha rubato il gol Ah sì Eh beh grazie Mi fa meno vedere Eh no Entrava Me l'ha spostata Ma guarda Guarda quel ladro Mi è Ma che merda Mi ha rubato il gol Infame Infame Aspettiamo una palla Grande Grande Questa l'avevi Era una parata Non ti ha dato la parata Ma era una parata Eh Sì Non sto capendo niente Però va bene Palla a caso Totalmente al centro Nel nostro metà campo Era un'ottima azione da gol Che non hanno saputo sfruttare Gli avversari Palla Rimbalzo Si trova a metà campo Incredibile Piretta Azione È gol lunghissimo Il contropiedone Da solo Tripletta per l'Eber Attenzione Che pro Che pro eh Eh non ve lo sareste mai aspettato L'uomo partita Sto facendo tutto io In questa cazzo di fare Incredibile Incredibile Vai Dai So che possiamo Possiamo fare il 5 a 2 Nella ripresa Incredibile Angolini in basso a destra Il portiere non ci arriva Non c'era il portiere Però Fatemelo vedere L'hanno mancata tutti Guarda che manca Bello Mi è piaciuta 5 a 2 In un minuto No in due minuti Abbiamo fatto 5 gol Ribaltata la partita In un modo impressionante Il sesto Ne dubito Ancora primo tocco Incredibile Partita incredibile Questo Leber Non ci proprio informa Il tiro Tenta Tenta di metterla Falla al centro Non ci arriva nessuno Può essere ancora sfruttata 10 secondi alla fine Tentiamo di mettere Tentiamo un assist Il cross Ce la può fare qualcuno A prenderla Falla al centro Sì Puoi farcela No Ci ha levato il sesto gol Smiley Grande partita Che chiudiamo A 990 Mi è piaciuto Mi è piaciuto Vabbè Ce ne vediamo In prossima cosa di Rocket League Ciao ragazzi E al prossimo episodio Spero se mi ricordo Di avere un canale YouTube Ciao Ciao